Scopri le nostre offerte per le tue forniture energetiche. Da noi i prezzi più bassi per luce e gas, e li blocchiamo per 12 mesi. Terrenia Energia ti metti al centro con una consulenza personalizzata per le tue esigenze. Vieni a trovarci a Cava di Terreni in via Vittorio Veneto 158. Saremo lieti di offrirti la nostra esperienza. Nel campionato di eccellenza femminile, la nocerina sta cominciando ad andare un po'. Sei punti nelle ultime due partite giocate e tutti in casa. Domenica scorsa le rossonere hanno superato per 1-0 a Casignano la formazione di Sant'Anastasia, che era a diversi punti avanti, quindi in centro classifica. Hanno realizzato il gol con Chiara Coccia, ormai impiegata stabilmente da Zollo e Mervoglino, nel ruolo a lei più congeniale di punta esterna. Anche il passaggio della squadra a un modulo 4-3-3 e il recupero di alcune calciatrici ha dato alla nocerina un gran giovamento. Domenica 5 febbraio, la compagine Molossa, attualmente a quota 6 punti, sosterrà addirittura la quarta gara interna consecutiva. Dopo aver giocato contro Ischia, Mugliano e Sant'Anastasia, la nocerina riceverà in quel di Pellezzano la Grumese, che occupa il quarto posto in classifica, ma era partita con qualche ambizione in più. In prima posizione al girone unico c'è Villaricca a 33 punti. Segue al secondo posto Pegaso a quota 30.